E adesso andiamo a occuparci invece di Feder Lavoro, parliamo di confcooperative, questa mattina poco fa la nomina del nuovo presidente di Feder Lavoro Giuseppe Salomoni della cooperativa CEA Edile Appennino, lo abbiamo intervistato, l'ha fatto per voi Giacomo Bianchi, si è parlato dell'importanza delle cooperative ma anche ovviamente del rischio delle cooperative cosiddette false, andiamola a sentire. Noi cooperative paghiamo una serie di difficoltà, uno è la crescita dimensionale, piccolo può essere anche bello, però oggi è importante aggregarsi, mettersi in rete, aderire a consorzi e qui vorrei come mio punto molto importante la sussidiarietà intesa, il grande aiuto il piccolo. E non è che sia una sfida, è nel nostro DNA, si tratta però di lavorarci molto sopra e oggi si può definire con l'accompagnamento al cambiamento, perché di cambiamento c'è necessità. Poi ci sono delle altre sfide molto pragmatiche, serie, noi oggi stiamo vivendo un po' tutti i settori ma in modo particolare questa federazione, questa grossa concorrenza sleale da parte di questi soggetti che si definiscono cooperative che in realtà non lo sono ma rovinano il mercato. Ma non solo, dietro a queste c'è la malavita, quindi questo occorrerà essere anche portatori di contributi, di idee dalla parte pubblica, sulla parte pubblica proprio perché si possa arrivare a definire delle linee, soprattutto delle norme che vietino e blocchino questo dilagare di cooperative, che sotto il nome di cooperativa che in realtà non lo sono, operano con un mercato sleale ma aggiungo lo sottolinea a gran voce, è un mercato dove c'è la malavita. Il problema che ha oggi è il riciclaggio del denaro e questi praticando certi ribassi puliscono semplicemente il denaro. Questa è una cosa che sarà un campo di battaglia tremendo. Restiamo nell'ambito di Federlavoro, restiamo nell'ambito della cooperazione di Conf Cooperative in modo particolare. Oggi all'assemblea di Federlavoro anche l'assessore alle attività produttive della regione Emilia Romagna, Palma Costi, ancora al microfono del nostro Giacomo Bianchi. La giornata di oggi è stata particolarmente importante per fare il punto sul ruolo della cooperazione nell'ottica del cambiamento. Siamo di fronte a una struttura molto importante in Emilia Romagna. Feder Cooperative rappresenta mondi di produzione di servizi davvero anche di qualità. Noi oggi come regione abbiamo bisogno assieme ai mondi della cooperazione, ma in modo particolare anche a Conf Cooperative, di fare alcune operazioni. Sostenere la forma cooperativa perché comunque rappresenta davvero la valorizzazione del lavoro, della dignità del lavoro, quindi un tema anche sociale, cioè il valore sociale del lavoro e anche dell'impresa. È importante in questo riconoscere quanto la cooperazione ha fatto per salvare dei posti di lavoro proprio nel periodo della crisi. Sono nati tantissimi worker buyout, quindi imprese salvate dai lavoratori che si sono reinventati come imprenditori. Sono centinaia e centinaia i posti di lavoro e queste sono imprese che avranno l'opportunità di occupare ulteriori lavoratori. Quindi c'è un futuro anche proprio per le nuove generazioni. Noi crediamo però di essere in una regione dove il modello cooperativo è un modello radicato nel passato, ma è un modello che sta davvero guardando al futuro con capacità di ripensarsi e di rigenerare e di riproporre questo valore fondamentale che è il valore sociale del lavoro e che per noi diventa fondamentale perché l'obiettivo che abbiamo come regione assieme a tutte le associazioni che hanno firmato il patto per il lavoro è quello di costruire buon lavoro e buona impresa.